Benvenuti a tutti, in questo video voglio parlare dell'iniziazione sessuale del Kalachakra Tantra. Ovviamente prima di affrontare il tema iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi ovviamente su tutti i miei social e su tutti i miei canali YouTube. Ma veniamo al tema, parliamo dell'iniziazione sessuale del Kalachakra Tantra. Allora, diciamo che il sesso è vissuto in maniera morbosa, soprattutto nella civiltà occidentale. Anche sembra che ci sia tutta questa liberazione sessuale, ma il sesso è diventato un bene di consumo. Invece, possiamo dire, nei rituali del Tantra, rituali molto antichi, perché poi oggi diciamo che sono cambiati, veniva utilizzato come energia, come energia per poter ottenere dei risultati, ovviamente. Diciamo che anche gli insegnamenti di importanti maestri indiani del buddismo o tibetani, come ad esempio Naropa e Milarepa, utilizzavano, diciamo, delle pratiche sessuali. Quindi questo è molto importante rendersene conto che oggi, diciamo, sono cambiate un po' le cose e spesso il Tantra viene considerato soltanto in alcuni casi come una pratica sessuale, mentre invece, ad esempio, nel buddismo tantrico ha completamente dismesso la parte sessuale. Manca questa integrazione che c'era nel buddismo medievale, se vogliamo, di integrazione tra la spiritualità e la sessualità. Oggi c'è stata questa scissione. anche nello yoga tantrico la sessualità veniva utilizzata come, diciamo, pratica proprio spirituale. Oggi, ripeto, c'è stata questa differenziazione per cui c'è chi considera Tantra una pratica sessuale, per fare orge fondamentalmente, che non ha nulla a che vedere con la spiritualità, mentre nel Tantra, nel buddismo tantrico, non c'è più, diciamo, se non eventualmente a livello simbolico, attraverso delle rappresentazioni iconografiche, non c'è più, diciamo, una, diciamo, una connessione con la sessualità. Diciamo, uno dei Tantra principali, che è il Kala Chakra Tantra, di cui anche il Dalai Lama, da parecchie iniziazioni, anche iniziazioni mondiali, Kala Chakra è la ruota del tempo, ed è connesso al mito di Shambhala, che, diciamo, o nelle sue varianti, diciamo, di Terracava fondamentalmente, dove si parla proprio di questa città mitica, dove venivano praticati, diciamo, rituali legati alla magia sessuale. Si utilizzava, diciamo, una terminologia ispirata a quella dello yoga, dove veniva utilizzato spesso il termine ioni, che era l'organo sessuale femminile, la vagina, e il linga, che è il pene, nonché l'energia Kundalini, che fondamentalmente è un'energia di natura sessuale. I neotantrici, diciamo, i tantrici moderni, di solito non conoscono assolutamente quello che erano i rituali di iniziazione antichi del Kala Chakra, e invece bisognerebbe recuperare, diciamo, tutte le, come possiamo dire, le parti fondamentali, e dobbiamo partire da questa città mitica che è la città di Shambhala, che alcuni la dipingono come una città di luce, come uno stato interiore, secondo altri esiste anche fisicamente, è una città nascosta dalle vette imalajane, e secondo altri si tratta invece di una sorta di mondo parallelo in cui, che è possibile raggiungere attraverso, soltanto attraverso pratiche meditative, in cui si possono effettuare dei viaggi multidimensionali. Secondo alcune fonti, Shambhala sarebbe invece il nome di un villaggio di Brahmani, nel quale si racconta, alla fine della nostra era, che è l'era del Kali Yuga, nascerà l'ultimo avatar di Vishnu, che in sella a un cavallo bianco armato di una spadra fiammeggiante, combatterà contro la civiltà del male. Infatti il mito di Shambhala è, diciamo, collegato proprio a la guerra, una guerra tra il bene e il male, la guerra finale tra il bene e il male, che dovrebbe appunto svilupparsi quando sarà eletto l'ultimo, il venticinquesimo re di Shambhala. Adesso siamo al ventunesimo. E tutte le persone che, in un modo o nell'altro, faranno, ed è per questo probabilmente che Dalai Lama fa molti rituali di iniziazione del Kala Chakra, chi sarà iniziato al Kala Chakra farà parte, diciamo, della lotta, diciamo, delle schiere del bene e dimorerà per un tempo molto lungo a Shambhala, perché, secondo il mito, la vittoria, Shambhala, o gli abitanti di Shambhala, questi esseri di luce, diciamo, arriveranno alla vittoria sulle forze del male e riusciranno e per un tempo molto lungo, non parliamo di eternità, perché tutto è mutabile, tutto cambia, comunque ci sarà una grande, di nuovo, un mito, un mito del loro. Ovviamente qualcuno pensa che questa lotta, diciamo, contro, contro, questa lotta tra il bene e il male sia collegata un po' anche all'Islam, infatti, diciamo, ci furono delle persecuzioni islamiche nei confronti del buddismo e anche dell'induismo che iniziarono nell'VIII secolo e vennero e terminarono, diciamo, con l'invasione della Valle dell'Indo da parte dei musulmani, degli islamici, che crearono con Mohammed di Gur, crearono il sultanato di Delhi intorno al 1200 e questo fece sì che molti maestri indiani induisti, perché questo è un po', diciamo, dobbiamo affermarlo un po', la caratteristica dell'Islam, ma se vogliamo anche per certi versi con le invasioni, diciamo, anche del cristianesimo, quello di contrastare le altre religioni, le altre fedi. quindi molti maestri indiani intorno appunto al 1200 trovarono il rifugio in Tibet e i racconti della resistenza contro gli invasori di Yohjin guerrieri diciamo mescolati agli insegnamenti tantrici furono la base di una serie di leggende e di profezie secondo la quale gli islamici farebbero parte diciamo secondo questa teoria delle forze del male e sarebbero completamente distrutti da una da una battaglia finale che avrebbe avrebbe avrà luogo nel si ipotizza nel venticinquesimo secolo però qui le date ovviamente sono sono molto aleatorie e quindi diciamo questa la prima versione però di Shambhala la troviamo nel Kalachakra Tantra che venne introdotto questo questo Tantra venne introdotto in Tibet da Naropa o secondo alcuni da un suo allievo tra il 1027 e il 1060 dopo Cristo e diciamo in questo questo Tantra che ancora oggi viene praticato praticamente sono le iniziazioni più grandi Dalai Lama fa iniziazioni anche online addirittura del Kalachakra Tantra inizialmente queste iniziazioni avevano un carattere avevano un carattere sessuale ovviamente questo carattere sessuale si si perse diciamo intorno al al 1500 più o meno e quindi in corrispondenza del sesto Dalai Lama dopo il sesto Dalai Lama queste pratiche non vennero diciamo queste iniziazioni questi riti erotici non vennero portati avanti comunque questa mitica città di Shambhala che secondo appunto una versione sarebbe un regno segreto nascosto tra le montagne imalaiane è formato da abitanti che dispongono di un'energia misteriosa che li rende comunque straordinariamente belli ma anche pacifici e longevi alcuni parlano di una forza diciamo misteriosa generata da un sole nero nascosto all'interno della terra altri parlano di una sorgente di acqua misteriosa e comunque questo diciamo questa situazione diciamo porta al fatto che come abbiamo già detto prima questa descrizione abbastanza scarna di Shambhala potrebbe essere secondo alcuni identificati identificata con Anidesa che era una ricca città occupata dagli islamici nell'ottavo secolo e questo è una delle tante possibilità ma la cosa più interessante è l'iniziazione sessuale del Kalashakra che venne utilizzata proprio da Naropa con il suo il suo testo e in questa iniziazione viene proprio descritto diciamo cosa che oggi invece viene utilizzata in modo metaforico e simbolico però si parla di inserire il Vajra che sarebbe il diamante nelle parti segrete della saggezza a lungo si ha un diletto consistente in una caduta di Bodhicitta quindi la mente dell'illuminazione colui che è consacrato attraverso le parti segrete trova diletto e e conficcando il Vajra che appunto rappresenterebbe nel testo antico il fallo nelle parti segrete della saggezza che sarebbe la Ioni l'energia femminile colui che è consacrato attraverso la conoscenza dell'unione tra il Vajra e la saggezza riuscirà a raggiungere uno stato di profonda diciamo di profonda serenità e pace interiore oggi questi questi testi vengono vissuti in modo simbolico ma è abbastanza facile constatare che la parola Vajra rappresenta il pene e la Bodhicitta indica poi la mente di illuminazione ma anche lo sperma e il diletto diciamo che viene accennato rappresenta il il piacere sessuale vi sono diciamo molte altre frasi che vanno appunto a indicare che si tratta proprio di iniziazione sessuale e ad esempio vi sono delle frasi come lo la yogin mantenga retto lo yogin mantenga retto di continuo il Vajra giovandosi del loto della sua mano e questo fa capire che qui quello che oggi viene considerato una metafora in realtà erano delle pratiche sessuali per stimolare le energie cosmiche e il kalachakra descrive senza dubbio il kalachakra di Naropa che è un grande maestro del buddismo descrive senza dubbio una serie di tecniche che riguardano diciamo l'aspetto sessuale e l'utilizzazione del piacere ai fini dell'illuminazione ma si spinge anche oltre descrivendo diciamo una serie di riti e di prescrizioni che oggi contrastano con l'idea che abbiamo del buddismo tibetano oggi ad esempio nel buddismo tibetano è praticato spesso dai monaci il voto il voto di di castità cosa che o di astinenza sessuale questo diciamo questa cosa non era assolutamente praticata dagli abitanti di Shambhala o comunque dai praticanti tantrici medievali dove invece vi erano delle espressioni diciamo esplicite legate proprio alla legate proprio alla sessualità e non era contemplata assolutamente non era contemplata assolutamente nel voto di castità né l'astinenza invece quella che possiamo chiamare castità nel rituali del Kalachakra sono trattenere diciamo così i rapporti sessuali senza l'emissione di sperma proprio per trattenere le energie e non disperderle attraverso attraverso l'eiaculazione e questo viene descritto sempre nel tantra di Kalachakra dove viene detto perché tutte le creature ottengano la liberazione stando nella famiglia generatrice dei vittoriosi ossia nel Vajra con una sola punta svilupperò il pensiero dell'illuminazione cioè la realizzazione del grande mudra dove il Vajra con una sola punta indica senza dubbio diciamo un pene con erezione e quindi il voto di castità per il maschio era consisteva all'epoca non con non avere rapporti sessuali ma nello sviluppare diciamo tutta una serie di tecniche finalizzate a mantenere l'erezione il più lungo possibile e a penetrare diciamo la Iogini la Ioni la donna fondamentalmente senza senza arrivare subito all'eiaculazione per tenere l'energia e alcuni termini antichi avevano delle finalità venivano spiegati proprio attraverso le sessualità e questi termini erano ad esempio la saggezza e il mudra indicano la femmina la parma femminile il termine vittorioso e vajra indicano il peneretto e il mandala segreto indica la parte interna della vagina e poi la luna il concetto di luna indica tutti i fluidi genitali sia maschili che femminili ovviamente vi sono diverse iniziazioni delle iniziazioni superiori che sono l'iniziazione della coppa l'iniziazione delle parti segrete e l'iniziazione della conoscenza e della saggezza e anche andando non approfondirò in questo video però andando a descrivere questi tipi di iniziazioni si vede che sono diciamo di natura sessuale e anche altre iniziazioni sempre di natura sessuale parlano proprio di una sorta di orgia rituale dove viene descritto in modo abbastanza preciso e simbolico tutte le attività che devono essere fatto il Karachakra tantra è un manuale comunque di yoga dedicato in buona parte a tecniche a iniziazione a tecniche di natura sessuale e descrive il piacere diciamo derivante dall'unione sessuale come la via maestra la via regia per raggiungere l'illuminazione la mancanza di capacità di gestire l'energia sessuale al contrario viene considerata come la radice della sofferenza e questo è un concetto che è molto diverso rispetto a quello che viene definito oggi la mancanza di concupiscenza viene descritto come il più grande dei peccati non esiste peccato maggiore della mancanza di concupiscenza e non esiste merito maggiore del piacere il peccato nasce dalla distruzione della concupiscenza in quanto da essa nasce avversione per la donna amata dall'avversione dell'offuscamento e da questo nasce la perdita del proprio vajra con confusione mentale continua la mente delusa da tutto ciò diventa priva di piacere priva di piacere ed erra per le sei nascite che sono i sei possibili luoghi i reami di nascita del samsara che sono i reami infernali i reami degli spiriti affamati degli spiriti famelici il reame animale il reame umano il reame dei semi dèi e il reame degli dèi e approfondirò diciamo un po' queste queste tecniche in altri video però adesso mi premeva appunto far capire come i rituali diciamo del tantra sono molto antichi e oggi sono probabilmente stati tolti di quella energia di cui erano portatori un tempo bene per questo video è tutto do appuntamento al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al